Grazie a un grande lavoro di squadra il Governo ha approvato la riforma della giustizia. Ora toccherà al Parlamento, naturalmente, dire l'ultima parola, però si corona il sogno di Silvio Berlusconi. Ed era un sogno per i cittadini italiani e non per la persona. Finalmente ci sarà, grazie all'iniziativa del Governo, un processo giusto dove l'accusa e la difesa avranno gli stessi poteri. E sarà innalzato il ruolo del giudice che sarà veramente al di sopra delle parti e potrà decidere se ha ragione l'accusa o ha ragione la difesa. Quindi nessuna scelta contro i magistrati, anzi è una riforma che esalta il ruolo del magistrato e poi va nella direzione di evitare una politicizzazione dei magistrati. Credo che questo sia un messaggio che va nella direzione dell'interesse di tutti i nostri cittadini.